bene amici di google plus questo è un video di prova con l'applicazione fotocamera camera fv5 con estensione associata cinema fv5 facciamo lo zoom zoom abbastanza buono direi proviamo il contro luce direi che reagisce bene proviamo di nuovo lo zoom ritorniamo indietro ok prova eseguita con samsung galaxy s4 rom installata saian jamon 12.1 basata sulla 5.1.1 di android lollipop ripeto camera fv5 con estensione associata cinema fv5 riproviamo lo zoom palazzo frontale torniamo indietro ok